Prode fiscale per fatture false con evasione da 6 milioni di euro, arrestato l'imprenditore dei negozi a Umai. Dura critica di Fabio Rolfi alla giunta Castelletti dopo il bilancio trimestrale di A2A, bollette troppo care e continui aumenti. Grandine su Franciacorte e Sebino, strade parzialmente allagate e il maltempo sfiora anche il Bresciano. 20 anni fa l'ultima partita di Roberto Baggio, la fine di un'era, da quel momento non è più domenica. Buonasera dalla redazione di Live e ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale che in primo piano vede la cronaca. È stato arrestato l'imprenditore di una nota catena di supermercati cinesi, stiamo parlando di Aumai, come avete sentito dai titoli, per frode fiscale. Il titolare di diversi punti vendita della nota catena di supermercati cinesi Aumai, residente nel Bresciano, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Monza con l'accusa di frode fiscale mediante l'utilizzo di fatture false per avere evaso oltre 6 milioni di euro di imposte in due anni, fra il 2019 e il 2020. Stando a quanto riferisce l'agenzia AGI, un manager è finito ai domiciliari e altri tre sono stati raggiunti dalla misura dell'interdizione dell'attività imprenditoriale e dal divieto di espatrio. Inoltre i finanzieri hanno dato esecuzione fra Monza e Brescia a un provvedimento di sequestro preventivo pari ai presunti profitti illeciti a un sequestro impeditivo di disponibilità finanziarie nei confronti delle 20 imprese e cartiere coinvolte nell'inchiesta. Attraverso queste società il gruppo avrebbe messo in piedi un sistema di frode nel settore del commercio di abbigliamento, una rete distribuita sul territorio nazionale e gestita da cittadini cinesi incensurati. L'obiettivo era quello di consentire alle 14 società che gestivano i punti vendita di usare fatture false per 20 milioni evadendo così le imposte. Continuiamo con la cronaca ma ci spostiamo a Desenzano, è stato trovato con 40 dosi di cocaina in auto ed è finito in manette. Nella bocchetta di aereazione nella maniglia poggiamano della sua auto aveva nascosto ben 40 dosi di cocaina pronte per la vendita ma con sé aveva anche 1000 euro in contanti. Un uomo albanese residente in provincia di Varese è stato arrestato dalla polizia a Desenzano del Garda con l'accusa di spaccio di droga. Una seconda persona è stata invece denunciata in stato di libertà. Tutto è iniziato dai movimenti sospetti notati da parte degli agenti nei dintorni di un'abitazione. Per vederci più chiaro il commissariato ha disposto un controllo mirato in cui è incappato anche l'uomo poi finito a Cantonmonbello. Dopo la convalida il giudice ha disposto l'obbligo di presentazione. Durante gli stessi controlli è stato trovato anche un secondo uomo in un'abitazione vicina. Poco prima si era avvicinato all'auto del presunto spacciatore ed effettivamente è stato trovato in possesso di marijuana. Se l'è cavata con una denuncia per possesso di droga. Cambiamo decisamente argomento. Dopo il bilancio trimestrale di A2A, Fabio Rolfi ha duramente criticato la giunta Castelletti. Ha dichiarato bollette troppo care e continui aumenti. Un ottimo risultato economico ottenuto anche grazie alle bollette dei Bresciani. È questo il commento del leader dell'opposizione in loggia Fabio Rolfi ai risultati del trimestrale di A2A con un più 70% nell'utile netto. Poi l'attacco alla giunta Castelletti che secondo Rolfi dovrebbe difendere gli interessi dei cittadini e non quelli dei manager. Per il leader dell'opposizione il comune si deve attivare a far abbassare ad A2A le tariffe delle utenze e poi rincara la dose. Capisco che il bilancio comunale ormai stia in piedi solo grazie ai dividendi A2A ma non possiamo continuare a tacere di fronte a un'azienda che realizza mega utili mentre le bollette continuano a crescere. Rolfi poi mette in relazione l'aumento della spesa del comune con i cospicui dividenti provenienti da A2A ma che non frenano una serie di aumenti decisi dalla giunta in questo primo anno di lavoro. Aumenta la tari, aumentano le bollette del tereriscaldamento, aumentano i biglietti dell'autobus, dice Rolfi. Questo è il segno della giunta Castelletti nel suo primo anno di lavoro. Porteremo ancora una volta la questione in consiglio comunale conclude per capire quale sia l'impegno del sindaco su questo tema Franciacorta e Sebino sono state colpite dalla grandine in queste ultime ore mentre le strade sono parzialmente allagate e il maltempo sfiora quindi anche il Bresciano. Tutti i dettagli però con tre bimeteo. Tanta la pioggia caduta in Lombardia si pensi nelle ultime 48 ore mediamente tra i 100 e i 150 mm di precipitazioni su molte zone non solo di montagna ma anche pianeggianti tra le province di Lodi, Vilano, Bergamo, Como quindi veramente tanta acqua che si è riversata sui corsi d'acqua. Non è tutto perché anche il Veneto è stato duramente colpito dalla pioggia sulle Alpi del nord-est, sulle Alpi Vicentine, sono caduti fino a 200 mm di pioggia nella giornata ieri. Forti temporali anche a este montagnana e Padova qui si riferiscono queste immagini allagate appunto dalla furia dell'acqua. Andiamo a vedere quello che succederà nelle prossime ore perché ancora rimane questa circolazione di bassa pressione ad ovest dell'Italia con impulsi perturbati e nuovi temporali questo pomeriggio e sera sono attesi al nord localmente violenti di forte intensità. Però diciamo che nel weekend almeno al nord ci sarà un parziale miglioramento. Intanto come dicevamo ancora qualche pioggia temporale al nord e sulla Toscana, venerdì parziale miglioramento, sempre bello al sud con clima estivo, nel weekend invece migliora parzialmente al nord mentre possiamo notare come nel fine settimana qualche pioggia investirà questa volta parte del centro sud Italia. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo o sul sito web. Dal maltempo passiamo all'estate, è stata infatti decisa la data d'inizio dei saldi estivi che sarà il 6 di luglio, la decisione della conferenza Stato-Regioni. I saldi estivi 2024 inizieranno il 6 luglio, l'ufficialità la data al presidente della conferenza Stato-Regioni Massimiliano Fedriga. Nessuna novità quindi rispetto al consueto inizio che è posto al primo sabato di luglio. La data di avvio è stata stabilita dalla Commissione Sviluppo Economico della conferenza. Lo scorso anno c'era invece stata una deroga perché il primo sabato corrispondeva anche con il primo giorno del mese e quindi si era deciso di far partire la svendita al 6 che era un giovedì. Dalle svendite estive dello scorso anno sono entrate in vigore le nuove regole di trasparenza a tutela dei consumatori, fra cui l'obbligo di specificare sul cartellino il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti all'inizio dei saldi, l'entità dello sconto e il prezzo finale. Oggi è stata presentata Futura Expo 2025 e tra incontro con le imprese, i cittadini e le istituzioni quest'anno si punta al futuro. Ascoltiamo adesso Roberto Saccone. Quest'anno il tema è il futuro, il futuro in un momento di particolare criticità con grandi cambiamenti che stanno generando preoccupazione quando non addirittura paura, soprattutto nel mondo giovanile. Quindi l'interpretazione del futuro, la prospettiva del futuro va indagata e bisogna affrontarlo con curiosità, con energia, con coraggio e cercare di capire quali sono le prospettive e sfruttarle perché nei grandi cambiamenti ci sono sempre anche delle grandi opportunità. Futura Expo consentirà ai giovani di raccontare la loro visione del futuro, ci consentirà di ascoltarli e di aiutarli a realizzarla e da un altro lato ci sarà la possibilità da parte delle imprese di raccontare il loro modo di interpretare il futuro. Per non dimenticare la strage di Capaci del 23 maggio a Brescia ci saranno due spettacoli, uno teatrale e uno di pupi siciliani. Scopriamo insieme di cosa si tratta con l'assessore Andrea Poli. Innanzitutto era importante ricordare e continuare a mantenere vivo il dibattito, lo studio e la riflessione su quello che è accaduto nel 1992. Dopodiché era anche importante cercare di dargli un taglio differente, due forme d'arte simili perché abbiamo una rappresentazione teatrale a Casazza il 23 maggio e poi sabato 25 invece un bello spettacolo di pupi, qualcosa che normalmente nella nostra città non c'è quindi anche un'arte che era bello importare perché può essere di diletto innanzitutto e di piacevole fruizione anche per le fasce più giovani della nostra popolazione ma soprattutto anche un'arte simbolica perché è un'arte che connota e caratterizza la terra siciliana in maniera particolare. Il punto è un punto politico, queste non sono date da dimenticare ma soprattutto non sono battaglie da considerare scontate. È un primo passaggio perché il lavoro è intenso nel cercare di dare una dimensione a quella che è la lotta all'antimafia non che deve essere sia memoria ma deve essere anche azione positiva e azione politica che deve coinvolgere anche il Consiglio Comunale e le nostre istituzioni perché non dobbiamo rimanere silenti, dobbiamo fare la nostra parte perché la mafia degli attentati probabilmente è finita ma c'è tanta altra mafia che inquina il nostro territorio e noi dobbiamo fare la nostra parte come istituzioni. Torna anche la magia di Strabilio, il festival del nuovo circo che partirà il 20 giugno. Tante le novità di quest'anno che scopriamo con il direttore artistico Vedo Belli e la presidente Lia Cocca. Siamo pronti? Si parte il 20 giugno? Sì, un programma importante internazionale, la terza edizione di Strabilio Festival e siamo riusciti quest'anno a portare davvero in Valle Sabia e sul Basso Garda il grande circo internazionale europeo ma non solo, riuscendo a avere compagnie che vengono dall'Europa ma anche dal resto del mondo per un programma che valorizzerà il territorio con eventi importanti e spettacoli crediamo di assoluto livello artistico. Il circo è come si dice un intrattenimento colto ma leggero, tramite un'arte trasversale che non ha vincoli di lingua e di età, riusciamo a comunicare messaggi culturali o anche sociali, intrattenendo e divertendo ma allo stesso tempo affascinando e appunto strabiliando come dice appunto il nome del nostro festival. L'invito è aperto a tutti quindi? Assolutamente sì, la bellezza di questo spettacolo è proprio che possono essere fruiti da bambini, genitori, nonni, è trasgenerazionale quindi abbraccia tre generazioni. Quest'anno terza edizione, Strabilio si cala sempre di più nel territorio e abbiamo tre progetti speciali che lo coinvolgono da vicino. Il primo è la riproposizione per il terzo anno consecutivo del gelato Strabilio che tutti potranno trovare nelle gelaterie Rock a cui abbiamo aggiunto una bellissima collaborazione con il Birrificio Curtense che ha fatto un'edizione speciale della loro IPA e che sarà disponibile in diversi locali della Val Sabbia e ovviamente invitiamo tutti a consumare la birra per una buona causa perché parte del ricavato ovviamente andrà a sostenere il festival. Ad ultimo abbiamo deciso anche di animare il centro dei comuni coinvolti quest'anno in valle con delle vetrine illustrate. vi aspettiamo a partire dal 20 giugno a Gavardo per l'inaugurazione di Strabilio. Appuntamenti quindi davvero da non perdere. Noi siamo invece ora alla pagina economica con il servizio a cura di Italpress. Per i veicoli pesanti ci sono nuove regole sulle emissioni. Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato formalmente il regolamento sulle norme in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti modificando e rafforzando le norme già in vigore. Vengono introdotti nuovi obiettivi per il 2030, il 2035 e il 2040. L'Italia ha votato contro il via libera definitivo al nuovo regolamento unendosi a Polonia e Slovacchia mentre la Repubblica Ceca si è astenuta. Le nuove regole mantengono l'attuale obiettivo per il 2025 che prevede una riduzione delle emissioni del 15% per gli autocarri pesanti che superano le 16 tonnellate. Prevista poi una riduzione delle emissioni del 45% a partire dal 2030, del 65% a partire da 2035 e del 90% a partire da 2040. Questi obiettivi si applicheranno agli autocarri medi, a quelli pesanti che superano le 7,5 tonnellate e ai pullman oltre che ai corrispondenti veicoli professionali a partire dal 2035. Le nuove norme inoltre introducono un obiettivo del 100% di autobus urbani nuovi a emissioni zero entro il 2035 con il 90% da raggiungere già entro il 2030. Noi ci fermiamo per una breve pausa ma torniamo subito con la pagina sportiva. Restate con noi. Buongiorno a partire. Una buona sera anche agli amici sportivi. Apriamo la pagina sportiva con il calcio. 20 anni fa, l'ultima partita di Roberto Baggio, in uno stadio di San Siro, Gremito, infatti il Divin Codino giocava gli ultimi 90 minuti della sua carriera. Anno 2004, 16 maggio. 20 anni fa esatti Roberto Baggio giocava l'ultima partita della sua splendida carriera. Milan-Brescia a San Siro, terminata 4 a 2, gli ultimi 90 minuti del Divin Codino, un addio che ha tolto tanto a tanti appassionati e fra questi c'è anche Gianni Infantino, il numero uno del calcio di oggi. 20 anni fa si giocava a Milan-Brescia, l'ultima partita della straordinaria carriera di Roberto Baggio. Cito Cesare Cremonini, un bravissimo cantante italiano, da quando Baggio non gioca più, non è più domenica, scrive sui social il presidente della FIFA, pubblicando anche la foto di Baggio che, con la maglia del Brescia Calcio e la fascia di capitano in mano, saluta il pubblico del Meazza. I premi individuali della Lega Basket sono stati ufficializzati nelle ultime ore e ovviamente la Germani giocherà un ruolo da protagonista. In casa Germani fioccano premi individuali e non poteva essere altrimenti al termine di una stagione in cui Brescia è stata per lunghi tratti capolista, chiudendo poi al terzo posto con 21 vittorie e 9 sole sconfitte. C.G. Messinburg fa una doppietta, meritatissima. È stato inevitabilmente proclamato il migliore sesto uomo dell'anno, un riconoscimento che in molti gli assegnavano virtualmente già da mesi e che oggi si è concretizzato. Il numero 5 bresciano si porta però a casa anche il titolo di Most Improved Player, ovvero il giocatore che maggiormente si è migliorato rispetto alla stagione precedente. E poi c'è Petrucelli che sebbene sia fermo i box da qualche settimana non poteva non essere nominato miglior difensore dell'anno. Per il naturalizzato nativo di Hicksville è un back-to-back perché davvero il proprio ministro della difesa della LBA si porta a casa il trofeo per la seconda volta consecutiva. Non è riuscito a vincere il premio più ambito, quello di MVP Miro Bilan. La palma di migliore è infatti andata a Belinelli e il centro croato si è piazzato quinto. Una soddisfazione però è arrivata, infatti è stato selezionato nel Dream Team dell'anno con Belinelli, Willis, Tucker e Scengeglia. Niente da fare invece per Capitano della Valle per la categoria di migliore italiano, mentre coach magro sale sul gradino più basso del podio di miglior coach dietro Abrienza e Banchi. Noi invece ci fermiamo qui ma le notizie continuano ad essere pubblicate sul nostro quotidiano online livebrescia.tv dove cliccando su questo piccolo box potete guardare la diretta in streaming del nostro canale tv 181 24 ore su 24. Per rimanere costantemente aggiornati e ricevere direttamente sul vostro cellulare tutte le notizie del nostro territorio vi ricordo di continuare a seguirci sulle nostre pagine social o di scaricare la nostra app gratuita. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.